Torniamo ad occuparci della questione Mosema a Masca Lucia. Trasferite al notaio le azioni di titolarità della Gesenu da parte della stessa Mosema, sotto forma di acquisto di azioni proprie al prezzo di 25.000 euro. È stata depositata la richiesta di rinnovo della White List in Prefettura e nel frattempo l'Assemblea della Società ha dato mandato ad operare al Presidente Fabio Usciuto per adeguare lo statuto societario. Intanto il Sindaco Giovanni Leonardi risponde ai consiglieri del PD, Giovanni Consoli e Giovanni Cuscuna che hanno evidenziato l'inaffidabilità del contenuto del bando relativo alla gestione di raccolta. In due anni e mezzo abbiamo ripulito la Mosema. È finito il tempo in cui la società veniva considerata un feudo politico, spiega il Sindaco Leonardi. Il consigliere Consoli ha depositato un documento in cui evidenziava delle criticità inconsistenti. Facendo un passo indietro, aggiunge Leonardi, il consigliere ha approvato lo scorso novembre il piano di intervento. L'Aro è stato approvato nel 2013 dalla Giunta e successivamente dalla Regione. Nei state scorse, a seguito di alcune variazioni normative, il consigliere ha approvato di nuovo l'Aro. In maniera responsabile si è approvata la delibera, conclude, considerando che ci troviamo in un momento di proroga tecnica per la Mosema che scadrà il prossimo mese di maggio. Pronta la risposta dei consiglieri Consoli e Cuscuna. Come consigliere abbiamo approvato il piano dell'intervento dell'Aro perché non ci siamo mai sottratti a dare un contributo positivo anche se facciamo parte dell'opposizione. Ribadiamo comunque che il bando risulta inaffidabile, in quanto la Commissione giudicatrice ha troppe discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi e potrebbe venire fuori un servizio di igiene ambientale non rispondente ai bisogni della collettività. Grazie a tutti.